ma ben trovati cari amici ma soprattutto cari amiche di total photoshop io sono max furia e nuova puntata della tutorial tv dedicata a lightroom cc 2015 ma non solo ne approfitto per salutare la buona nostra regista camilla bilato che dall'altra parte dei pulsanti monitor e telecamere che ci segue pedissequamente in ogni nostro spostamento da qui a qui fino a qui e come vedete una vera e propria trapezista della regia video oggi parliamo di un argomento ibrido dicevo lightroom cc 2015 ma non solo perché molti di noi che utilizzano il fantasmagorico strumentopolo ossia lightroom hanno ormai preso il vizio di utilizzare anche giustamente la versione mobile la versione web la versione per smartphone e questo processo implica anche un ulteriore sottoprocesso ossia quello della sincronizzazione tra i vari device i vari dispositivi ebbene questa sincronizzazione però in precedenza prima dell'ultima versione di lightroom ossia della cc 2015.6 se non erro aveva questo inconveniente per cui la sincronizzazione partiva e partiva da dove? Da qui per cui quando tu vuoi sincronizzare con lightroom mobile fai clicchi semplicemente sul pulsantino triangolare come un po' come se fosse un play e parte la sincronizzazione delle foto tra la tua versione desktop e la versione mobile cosa succede se le cose vanno storte oppure no? Non si sapeva ovvero se stavi caricando delle foto e magari una certa quantità e non sapevi il rapporto a quella che è per esempio la tua velocità di trasmissione la tua velocità di banda della tua DSL non sai se puoi caricarne 10 al minuto una all'ora o 100 al secondo e questo mistero lasciava un po' così tutti quanti per cui tu provi a tenere aperto il tuo dispositivo mobile e intanto o magari la versione web intanto provo a caricare da desktop però capisci che questo cominciava ad essere poco funzionale fortunatamente per fartela breve abbiamo adesso sotto il menu preferenze di lightroom che su mac lo trovi qua sotto mentre su pc lo trovi sotto la voce modifica nelle varie voci abbiamo la voce lightroom mobile ebbene nella versione nella voce nella scheda relativa lightroom mobile abbiamo nuove opzioni ossia la possibilità di specificare una posizione quindi una cartella specifica per le immagini di lightroom dedicate ai dispositivi immobili cioè che vogliamo trasferire proprio lì e poi abbiamo questa scheda che si chiama attività sincronizzazione in attesa che da una parte adesso vedi che faccio ripartire quindi ho riattivato la la sincronizzazione e vedi che mi sta facendo vedere che ho un upload anzi quattro upload in corso di quattro foto differenti che sono tra l'altro tutti raw e a secondo della tipologia di connessione che ho a disposizione a quel punto so come stanno andando le cose oppure no magari è anche un test per vedere se la mia connessione effettivamente funziona come dovrebbe ebbene questo uno strumento veramente molto molto utile soprattutto per evitare che cosa grandissime figuracce per cui ti aspetti che magari la tua sincronizzazione sia istantanea e a volte non lo è oppure prima di andare prima di far spendi spegnere il computer durante una sincronizzazione ecco vedi che adesso mentre noi parlavamo praticamente ha applaudato tutto e quindi possiamo tranquillamente prendere andarcene e ritrovare comunque i nostri scatti sul nostro lightroom mobile su lightroom web comunque su tutti di sincronizzato con tutti i dispositivi che sui quali abbiamo installato il nostro il nostro lightroom mobile detto questo prima di salutarci perché l'argomento in realtà finisce qui in termini proprio di segnalazione di una features che è importante tenere d'occhio se utilizzi questa questa funzionalità ma dicevo prima di salutarci ti ricordo che fondamentale che tu ti sia registrato al sito quale a total photoshop ovviamente perché se non l'hai ancora fatto ti ricordo che è gratuito e anzi ti regaliamo qualche cosa noi di veramente valido per imparare di più sempre di più spendendo sempre di meno tra l'altro che è una cosa che non guasta in secundice ti raccomando di continuare a seguirci non solo attraverso il sito ma anche attraverso tutte le nostre pagine social quindi facebook twitter google plus youtube insomma ce n'abbiamo un sacco vatti a vedere tutti i nostri canali social e non perderti neanche una delle novità che quotidianamente andiamo a pubblicare su total photoshop e non solo detto questo il mio augurio come al solito è buona luce buoni scatti ma soprattutto tanti bei pensieri positivi a tutti quanti alla prossima